ah si che c'è un gruppo su facebook che è chiamato tipo gli emissari di Zeb89 che mi fa a tratti ridere e tutti quanti conoscete l'amore condiviso del cerbero per Zeb89 però cos'è successo? che questo gruppo avevo già notato dei movimenti strani però ultimamente questo gruppo mi sta preoccupando perché ci sono degli aggiornamenti giornalieri sulla vita di Zeb89 del tipo me sa che si è lasciato con la ragazza perché ha tolto il follo me sa che si è trasferito me sa che è tornato a casa del padre tipo screen di un tizio che manda un messaggio al padre di Zeb cioè una roba veramente folle manco corona ci vedo l'ossessione ci vedo una roba un po' malata da parte di questi film sempre ci fanno ossessionare i pellegrinaggi nei suoi luoghi storici ma è la stessa cosa però sono traditi però il livello diciamo di idolatria è lo stesso adesso lo disprezzano prima lo amavano però che ne so gli screen oggi ha fatto ancora meno spettatori sta continuando a calare capito oppure la comparazione con uno streamer secondo loro è merda stanno a guardare Leone in gabbia sì sì Leone malato in gabbia non hanno accettato sta roba però vabbè io ti dico una cosa alla fine tu sai che io ho un amore viscerale per Zeb ho tutti i meme a memoria ne ero un fan proprio spiegatato io mi metto pure nei panni delle persone che sono così dedite a un culto e la divinità che veneri ti ripudia ti rifiuta continuamente non vuole le tue preghiere non vuole le tue lodi a un certo punto ti senti abbandonato ti senti abbandonato io non ero così morboso ne ero semplicemente quando ho visto che lui faceva altro ho detto vabbè non fa più le cose che mi fanno lì da me ok ogni tanto lo seguo le live che fa su dbd ma non mi interessano la cosa più sana è che ti stacchi da quell'idolo e te lo dimentichi che va avanti con la tua vita la cosa meno sana è che inizi a odiarlo e quindi rimani comunque un idolo ma che odi però capisco un po' il sentimento cioè mi metto un po' nei panni e secondo me è indubbio che lui poteva giocarsela un pochino meglio poteva essere leggermente più permissivo più cortese con i fan sfegatati perché se le persone ti donano so così ti danno così tanto affetto magari puoi mettere in chiaro non venite dove abito non mi scrivete in privato non siate troppo morbosi però è una soddisfazione ogni tanto dai la stiporaccia che hanno consacrato la vita a Zeb89 è quanto assurdo sembri sì sì sono d'accordissimo cioè noi siamo sempre in contatto con il pubblico quindi per me è come avere una platea ed è bello interagirci ma pure il fatto c'è di cambiare lingua è ovvio no là si è dato una consapevole zappa sui piedi per proprio mandare a fanculo come hai detto te un sacco dei sudditi se vogliamo chiamarli così senza un motivo reale cioè nel senso o perché si era rotto il cazzo perché voleva non so crearsi tipo un'isoletta felice mettendo però secondo me la testa sotto la sabbia non lo so mo sembra l'eremita che vai a vedere sull'isola deserta da lontano che dici che sta a fa vediamo un attimo metto un po' la testa perché tanto neanche parla più la tua lingua ti ha rinnegato proprio non vuole che lo segui se l'ha proprio detto si si anche perché poi penso abbia tipo il record mondiale di ban sul canale anche per cose ovviamente stra tranquille ma non solo la lingua a volte pure per un high zeb capito cioè però vabbè comunque porca troia si si ma mica solo per termini in altre lingue anche per cose nella lingua che lui chiede di utilizzare ma neanche neanche arriva più alle critiche ormai cioè semplicemente una frase che non gli piace è come se avessi voluto cambiare identità no si però appunto mi ha colpito questo gruppo perché ripeto ogni tanto mi capitavano i post in home però negli ultimi giorni negli ultimi settimane mi sono anche un po' preoccupato perché sono arrivato a dire ok il meme ok che ironizzi sulla sua situazione sulle sue scelte va bene però alzi veramente dei livelli che neppure signorini cioè veramente quasi stalking secondo me stavolta stanno passati direttamente proprio dalla parte del torto cyberbullismo per quanto potevano essere capiti stavolta stanno esagerati lui si è proprio dovuto sbroccare ma saranno cazzi i suoi non so se su facebook dove ha detto decisamente che la sua vita sentimentale non deve interessare ma c'è mancherebbe altro e non si devono permettere né descrivere alla ragazza né descrivere al padre ma sì ormai lo trattano come un pupazzo un peluche vecchio sì sì e appunto ho notato sta dinamica anche perché pure noi purtroppo negli anni abbiamo accumulato un po' dex fan bravo oia e alla fine cioè le vedo non sono diversi da quelli che magari i tempi della caverna pendevano dalle nostre labbra ripetevano i meme come scimmiette in altri magari video sotto altri video sì perché secondo me più sei sfegatato più diventi hater sfegatato perché è appunto è il tradimento è il tradimento di una persona che ami però è il tradimento cieco perché se tu ami secondo me se tu ami veramente una persona cioè non è che devi per forza accettare il tradimento però a un certo punto lo metabolizzi e dici ok non è che devo adesso distruggere la sua vita devo tentare di risanare la mia cioè il mio intento non può diventare visto che mi ha tradito ha sbagliato con me adesso io gli distruggo la vita no perché tu distruggi pure la tua entri un porto cioè c'è sta che ovviamente te lo dà il culo quello che vuoi però secondo me una persona raggiunge una certa maturità quando capisce che non deve essere distruttivo è uguale per molti fan il cerbero non rappresenta più l'ideologia che voglio che mi racconti ogni giorno in live godo se falliscono capito perché falliscono perché hanno abbandonato l'ideologia che piace a me capite quindi il loro fallimento è la mia vittoria ma in realtà è anche il tuo fallimento ovviamente non perché se qualcuno fallisce fallisci pulito perché se tu stai lì e speri nel fallimento degli altri ci stanno veramente ci stanno veramente dei tizi che dal 2019 al 2020 continuano sotto i freebooting a scrivere i papiri delle stesse cazzate le robe della caverna mi viene da dire sì stavano nel 2024 stanno pure dei gruppi facebook dove si rintanano le vedove da casa bianca e poi sul web ci sta vedove di qualsiasi cosa all'interno di un canale ma esiste vedove della casa bianca no no che significa ci sono dei gruppi dove ci stanno tante vedove di quel periodo senza fannomi ma il discorso è che si riesce a essere vedove di qualsiasi cosa sul web ci stanno vedove dei format vedove degli studi gente che magari tolta la caverna non ha più seguito no 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 non c'è più la caverna non si può più vedove dei meme cioè è una roba folle invece di goderti lo spettacolo e partecipare anche tu alla crescita delle persone a cui l'affezione vuoi bene crescere con loro vedove dei villi e mi frizzo nel tempo e devo dire no io sono ancora strunato da vedove della casa bianca che è un film fighissimo è un titolo è vero però un titolo che lo metti ma tu lo sai Marco c'è il titolo lo devo scrivere nel giaduto la vedove della casa bianca è bello lo sai Marco l'inchiesta sulla guerra bellissimo quando ci abbandonerai per lo streamer più famoso che giustamente te pagherà di più in America ci saranno le vedove di Marco Chitano greve ma sarà dura prima ci saranno le bimbe poi dopo le vedove eh perché comunque senza Chitano cioè non è più il cerbero la regia ha perso è normale mai ricordato sia quando abbiamo visto l'attrice di Harry Potter che fa vede Rotter cazzo ancora rompe il cazzo che Harry Potter io c'ero dentro cioè veramente siete ridicoli e allo stesso modo perché Harry Potter è finito no e tutti questi sono fan di cose che sono morte lo devono capire vanno come alla lapide capito no per avere il ricordo per rievocare cose passate però seguire un canale significa prendersi per mano esatto vediamo il cerbero come un grande carrozzone da seguire assieme una carovana nel presente o cambiare carovana come è legittimo però se ti rompi il cazzo capito no sta là e sperare che la carovana non torna indietro o che torni indietro esatto esatto perché poi tu ti illudi di averla abbandonata ma se continui a rompergli il cazzo tu semplicemente stai sul bordo della strada continui a camminare insieme alla carovana e tiri i sassi esatto e poi ti ritiriamo sì sì cerbero è quello che è adesso vero sempre adesso e adesso e adesso e adesso confermo di essere ipocrita perché io sono vedovo di porfo 90 del format col conoscitore però posso dire almeno una cosa mia discolpa è durato troppo poco anche mi piace mi piace mi piace mi piace mi piace Grazie a tutti.